Come ogni altro organo anche il seno può ammalarsi e ad oggi la diagnosi percoce è il metodo più efficace per salvaguardare la propria salute. Per questo l'associazione Fior di Loto, donne operate al seno e non, promuove tre giornate di prevenzione. Il 25 novembre, mercoledì 2 e 9 dicembre, dagli ore 14 alle ore 16, sarà possibile sottoporsi ad una visita senologica gratuita all'ospedale Santa Croce di Fano, nel reparto di oncologia Blocco B1. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'equipe medica del reparto di cui è direttore Rodolfo Mattioli ed è dedicata a tutte le donne di età inferiore ai 50 anni, in particolare non soggette a screening. La visita senologica consiste in un esame completo del tutto in dolore senza l'impiego di strumentazioni, eseguito da un medico senologo e ha l'obiettivo di individuare o escludere la presenza di una patologia. Per prenotare è possibile contattare questi numeri di telefono negli orari indicati. Grazie. 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 Grazie.